Una battuta con Marco Di Domenico, dipendente centrale di questa amministra città di Gaeta che stava allo scorso, ha battuto una formazione sicuramente di più qualità. Due battute su questa gara, mi sembra che il secondo agone sia stato disegno in scarti ma sicuramente avete giocato un buon match, no? Sì, abbiamo fatto una buona partita, non la seconda classifica, comunque era una partita molto difficile siccome loro avevano molti under che scendono dall'eccellenza, comunque una squadra di valore e abbiamo avuto risultati positivi sia là che qua, abbiamo fatto dei vittori, noi siamo contenti di questo risultato. Com'è andata? Com'è visto il complesso della tua squadra? Com'è andata la tua stazione? Ma ha fatto una bellissima partita, attenta, abbiamo giocato poi con l'alluna però siamo stati molto attenti agli valori difensivi, abbiamo subito moltissimi di importance, quasi zero quindi comunque è una gran bella partita, gran bella partita. Com'è sta andando in previsione di questo prossimo match che mi sembra che è ancora più difficile? Sì, sarà una partita molto dura. Loro all'andata hanno fatto una buona partita qui però sappiamo che hanno cambiato molto la loro squadra, tipo i 7-10 metri da squadra di dolore sono cambiati quindi sarà una partita molto dura, molto dura. Con la prima classifica devono stare molto attenti durante il motivo per fare la partita, perché siamo una grande squadra e meritiamo di stare molto più in alto. A livello di formazione voi avete problemi oppure vi ci accomprende? No, non abbiamo problemi, comunque anche i ragazzi che vengono dalla panchina o che vengono convocati dalla prima comunque fanno sempre loro e quindi danno sempre una grandissima mano quindi noi tutti insieme siamo tutti al bella squadra, tutti insieme a livello di formazione. Sì, cioè poi li farebbero sicuramente stessi. Di Bocca Rosso. Credo.